I ragazzini dell'età dei nostri figli o nipoti fra 10 e 15 anni ci stanno veramente dando la sveglia e allora la rivolta dei ragazzini per me è un simbolo, poi Greta non è una filosofa Greta è una ragazzina, certo che fra lei e la Rossanda c'è un abisso di conoscenza e di sapienza però se io fossi la Rossanda, cioè spero di arrivare all'età di Rossana Rossanda e essere indulgente e contenta e felice che arrivi qualcuno dopo di me ma meno male che c'è anche la Rossanda che ogni tanto fa una battuta su questo e alligerisce il tema no scusami Diego, Rossanda non è tipo da fare battute, io mi ricordo che avevo 20 anni avevo 20 anni, era uno dei miei primi articoli sul Tirreno e dovevo, era un convegno su Sartre dove Rossanda Rossanda era relatrice, io ho stati 3 giorni a prendere appunti a questo convegno avevo 20 anni, ero poco più grande di Greta poi siccome dovevo scrivere 30 righe per il Tirreno su 3 giorni di convegno su Sartre andai da lei e le dissi, mi può aiutare a fare questa sintesi? secondo lei i punti, ma avevo un quaderno così di appunti cioè dice avevo studiato, avevo studiato tanto, ero stata lì a sentire per 3 giorni volevo soltanto un'indicazione e lei mi disse, ma questo è un tema che soltanto chi è molto competente può capire allora tu capisci che questo è un atteggiamento che esclude diciamo così stai zitta ragazzina, stai zitta ragazzina, stai zitta ragazzina già da allora e secondo me ha fatto molto male alla sinistra tutto questo stai zitta ragazzina, 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 stai zitta rag